ciao a tutti oggi apriamo un altro magic egg no hai distrutto la scritta gourmetty buttalo 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 adesso l'altro conto ci ha messo un paio d'ore c'è questa cosa bianchiccia che sembra sapone vedo già qualcosa sta nascendo guardalo cos'è il pugno? si si boh fai una cosa dolce insomma pur che fortunato guarda davanti si sta prendendo rifalla rifalla bellissimo pronti? ci sei? no stupendo questo è illuminator? par di si? si sicura? vabbè ecco giralo le tipiche chiappette da gourmet molto bello adesso è pulitissimo ciao a tutti ciao 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 ciao